Ma perché mentre parlava Giorgia Meloni guardavamo tutti Silvio Berlusconi? Buongiorno a tutti, la delegazione composta dai capigruppo e dai presidenti di tutte le forze politiche della coalizione di centrodestra. Siamo alle solite, avvicinamento all'interlocutore, gesti di dominanza. Qui per esempio abbiamo un gesto che potrebbe essere una pacca sulla spalla, ma non lo sappiamo perché non si riesce a vedere bene. Potrebbe essere un gesto deittico, cioè di indicazione a Matteo Salvini di dove disporsi. In ogni caso indicatori di dominanza e poi ancora espressioni, microespressioni facciali. Tutte cose che orientano automaticamente la nostra attenzione. Vi ricorda qualcosa? Ricordiamo la riduzione delle tasse, il lavoro per i giovani, la riforma delle pensioni, la lotta alla povertà. Orientamento automatico dell'attenzione, ne ho parlato molte volte nei miei video. Quando accade una cosa inaspettata all'interno di un particolare setting, la nostra attenzione automaticamente viene spostata su quello che sta accadendo. È un po' come quando, ve l'ho già raccontato tante volte, sbatte una porta in casa nostra e improvvisamente la nostra attenzione, mentre stiamo facendo altro, si porta proprio su quel rumore. E questa cosa ha degli effetti anche quattro anni dopo. Cioè è stata così dirompente, così atipica quella situazione, che oggi tutti ci aspettavamo di vedere che cosa Berlusconi avrebbe fatto mentre Giorgia Meloni parlava. Beh, sicuramente ha fatto cose molto meno appariscenti rispetto al 2018. Eppure c'è un dettaglio importante da sottolineare. Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime come, diciamo, rappresentanza della... Giorgia Meloni dice che c'è l'unanimità nella scelta del candidato premier. Silvio Berlusconi che cosa fa? Alza le sopracciglia interne ed esterne, quelle che nel gergo della psicologia delle microespressioni facciali si chiamerebbero Action Unit 1 e 2. E la stessa cosa negli stessi momenti accade anche a Matteo Salvini. Action Unit 1 e 2 ed Action Unit 5. Occhi spalancati, sopracciglia interne ed esterne alzate. E allora, si possono dire cose anche senza parole? Certo, si possono dire cose e il caso di oggi ce lo dimostra. Attraverso degli indicatori non verbali molto sottili, ancora una volta la nostra attenzione è andata su Silvio Berlusconi, che comunque è rimasto il protagonista della scena, benché l'occasione e il momento fossero tutti per Giorgia Meloni.